Musica Buongiorno in diretta all'informazione di TV 2000 in apertura. Andiamo in aula Paolo VI dove da poco è terminata la consueta udienza del mercoledì. Le parole di oggi sono state dedicate al tema del lavoro. Causare la perdita di posti di lavoro significa causare un grande danno sociale, ha detto il Papa. Ma il lavoro ha poi aggiunto non sia ostacolo della logica, del profitto. Sentiamo però un passaggio della sua catechesi. Quando il lavoro si distacca dall'alleanza di Dio con l'uomo e la donna, quando si separa dalle loro qualità spirituali, Quando è in ostaggio della logica del solo profitto e disprezza gli affetti della vita, l'avillimento dell'anima contamina tutto, anche l'aria, l'acqua, l'erba, il cibo. La vita civile si corrompe e l'habitat si guasta. E le conseguenze colpiscono soprattutto i più poveri e le famiglie più povere. La moderna organizzazione del lavoro mostra talvolta una pericolosa tendenza a considerare la famiglia un ingombro, un peso, una passività per la produttività del lavoro. Ma domandiamoci, quale produttività? E per chi? La cosiddetta città intelligente è indubbiamente ricca di servizi e di organizzazione, però ad esempio è spesso ostile ai bambini e agli anziani. A volte chi progetta è interessato alla gestione di forza lavoro individuale da assemblare e utilizzare o scartare secondo la convenienza economica. La famiglia è un grande banco di prova. Quando l'organizzazione del lavoro la tiene in ostaggio o addirittura ne ostacola il cammino, allora siamo sicuri che la società umana ha incominciato a lavorare contro se stessa. E a proposito del lavoro che si distacca dall'alleanza con Dio anche oggi, un altro episodio di cronaca avvenuto nelle campagne baresi. Un uomo è stato colpito da un infarto mentre lavorava come bracciante per la vendemmia. Tutti i dettagli li sentiamo nel servizio di Alessio Orlandi. Stava lavorando da ore in una vigna, sotto un sole che toglieva il fiato quando all'improvviso si è accasciato a terra, colto da un malore. È successo ancora, è successo di nuovo nelle campagne pugliesi. Un altro bracciante che sotto il peso della fatica crolla, stremato. Arcangelo ha 42 anni, ora è in coma e lotta da 10 giorni tra la vita e la morte. Abita a San Giorgio Ionio, in provincia di Taranto, e ogni giorno si alzava prestissimo per affrontare un viaggio di 150 km e raggiungere le campagne tra Andria e Canosa di Puglia, nel nord barese. Sette ore filate di lavoro nei campi, pagate poco meno di 30 euro al giorno, di cui 12 vanno al caporale che gestisce il trasporto, denuncia Giuseppe De Leonardis, segretario della FLAI CGL pugliese. Si chiama lavoro, si legge nuovo schiavismo, spesso coperto da un muro di omertà e silenzi, che nasconde le durissime condizioni di lavoro nei campi. L'uomo stava raccogliendo l'uva nella stessa zona di campagna in cui lo scorso mese è morta per un malore, Paola Clemente, a unire gli episodi non solo il paese di provenienza, ma anche la stessa agenzia interinale che dava lavoro ai due braccianti. Solo nell'ultimo mese sono tre i lavoratori che hanno perso la vita nelle campagne della Puglia. Nel caso di Paola, morta a 49 anni il 13 luglio scorso, la procura di Trani, dopo un esposto del marito che chiede giustizia, ha deciso di aprire un'indagine. Omicidio colposo e omissione di soccorso, le ipotesi di reato al momento contro i gnoti, mentre venerdì prossimo verrà riesumato il corpo della donna per effettuare l'autopsia. A rendere più tragiche tutte queste morti, il sospetto rilanciato dalla CGL pugliese, che in quelle campagne si usino fitofarmaci pericolosi che fanno sentire male gli operai, ma nel caso di Paola, almeno in base alle prime ricostruzioni degli inquirenti, gli orari di lavoro erano pesantissimi, anche 13 ore al giorno, per una paga di poco superiore ai 2 euro l'ora. E un barcone con a bordo circa 300 migranti. Invece è stato soccorso poco fa a circa 180 miglia sud-est della Sicilia. L'allarme è stato lanciato dall'imbarcazione con un telefono satellitare alla centrale operativa della Guardia Costiera, che ha poi inviato gli aiuti in zona. E ancora in tema di immigrazione, nelle scorse ore, è partito da COS in Grecia il traghetto con 1700 migranti diretti a Salonicco. È arrivata invece nella serata di ieri, dopo una lunga giornata in Camera di Consiglio, la decisione dei giudici minorili sulla sorte del piccolo Achille, il figlio di Martina Levato e Alexander Becher, conosciuti come la coppia dell'acido. Sentiamo Cesare Cavoni. I giudici del Tribunale dei minori di Milano hanno deciso che Martina Levato potrà vedere suo figlio una volta al giorno alla presenza di operatori sanitari e lo potrà vedere con una breve visita e senza poterlo allattare. Nello stesso tempo i giudici hanno anche aperto, come aveva richiesto il PM dei minori, Anna Maria Fiorillo, il procedimento di adottabilità del bambino. Ma su questo punto la decisione definitiva verrà presa in un secondo momento, forse a settembre. Intanto il Tribunale dei minori ha deciso di affidare il bambino al comune di Milano. Alla base del provvedimento la perizia psichiatrica condotta in fase processuale a Martina Levato, nella quale la donna veniva descritta capace di intendere di volere, ma con una personalità a tratti borderline. La madre del piccolo Achille, condannata insieme al compagno Alexander Becher, a 14 anni di reclusione per l'aggressione con l'acido ai danni di Pietro Barbini, una volta dimessa dalla clinica Mangiagalli dovrebbe essere portata all'ICAM, all'istituto per detenute e madri con figli, insieme al piccolo, come stabilito dal GIP di Milano su richiesta del PM Marcello Musso. Intanto il padre di Achille chiede di riconoscere il bambino. Il suo legale ha scritto una lettera al garante dei detenuti al comune di Milano, indirizzandola al sindaco Giuliano Fisapia per avere chiarimenti sulle procedure di riconoscimento. L'uomo infatti non ha ancora potuto firmare i documenti per il riconoscimento del bimbo, nonostante il nulla osta arrivato dal Tribunale di Milano. È il momento della politica con le misure che il governo intende mettere in campo per i disagiati. L'ipotesi sul tavolo e per la quale già sarebbe stata individuata una copertura di 2,4 miliardi di euro è garantire un sussidio capace di riportare 5 milioni di italiani al di sopra della soglia di povertà. In pratica significherebbe aumentare l'entità dell'assegno minimo per le categorie disagiate, e le quali però sarebbero obbligate a partecipare a programmi di reinserimento sociale. A questa operazione poi si affiancherebbe anche l'introduzione di un sussidio per gli over 55 che perdono il posto di lavoro. L'operazione scatterebbe però ovviamente nel 2016. Intanto ieri il governo ha confermato l'eliminazione della tassa sulla prima casa per tutti i proprietari. Dunque ci sarà solo una tassa locale unica, da varare però con la legge di stabilità dopo l'estate. Resta aperto il problema delle risorse da girare ai comuni. Nell'intervista di Giuseppe Caporaso a Pierpaolo Baretta, il sottosegretario dell'economia condivide le preoccupazioni dei sindaci, però rassicura anche sul reperimento delle risorse. Sentiamolo. Sottosegretario Baretta, allora la tassa sulla prima casa verrà abolita del tutto o come dice qualche altro rispondente al governo parzialmente? Il Presidente del Consiglio è stato chiaro. Abolizione della tassa sulla prima casa, togliere le tasse dai macchinari imbullonati e dal limo agricola. Questi sono gli impegni e questi rispetteremo. C'è il rischio di sanzioni o di intervento da parte dell'Europa, di Bruxelles? No, direi di no, nel senso che noi abbiamo una condizione di bilancio dal punto di vista del deficit molto favorevole. Siamo in grado di discutere anche di flessibilità in collaborazione con l'Europa. No, non vedo rischi europei. Lei sta coordinando questo gruppo di lavoro per quanto riguarda la tassazione sulla casa. Allora, che cosa accadrà subito dopo le vacanze? Ci sarà un'unica tassa sulla casa? Come si svilupperà il tutto? Distinguiamo tra la tassa sulla prima casa, che andrà appunto abolita, e quella che chiamiamo la local tax, cioè le tasse locali. Soprattutto semplifichiamo. Bisogna che i cittadini non paghino molte volte le tasse, ne paghino una volta solo ai comuni, e quindi è necessario da questo punto di vista unificare vari pezzi, la tassa sulla seconda casa, la tassa sui rifiuti, la tassa sull'energia elettrica del comune. Tutto quello che sono le tasse comunali, renderle in qualche modo più semplici dal punto di vista del pagamento del cittadino. Quindi da un punto di vista della tasca dei cittadini, che cosa accadrà? Sicuramente non aumenteranno, che in alcuni casi ridurranno, ma dipenderà molto dalle condizioni dei singoli comuni. I comuni, i sindaci, però in qualche modo si lamentano perché dicono i soldi dove li troviamo? E credo che bisogna essere molto chiari. I comuni hanno ragione, hanno diritto a dire che se viene abolita la tassa sulla prima casa, poiché quelle tasse sono di loro competenza, è necessario che siano compensati. È una cifra importante, sono circa 4 miliardi, ma l'impegno non può che essere quello di compensare i comuni dell'abolizione della tassa sulla prima casa. All'estero ora, perché passa per la Germania il futuro della Grecia, oggi il Parlamento tedesco è chiamato a votare l'approvazione del nuovo piano di aiuti da 86 miliardi di euro. Non dare alla Grecia un nuovo inizio sarebbe da irresponsabile, ha detto il ministro tedesco dell'Economia, all'apertura dei lavori al Bundestag, rivolgendosi ai parlamentari. Intanto ad Atene si fanno i primi passi per la vendita del patrimonio pubblico, proprio ieri è stata pubblicata in gazzetta ufficiale la privatizzazione di 14 aeroporti regionali, in gran parte in località turistiche, per 1,23 miliardi di euro. Nell'antica città siriana invece, andiamo ora nell'antica città di Palmira, per l'ultimo efferato omicidio rivendicato dall'Isis, un archeologo di 82 anni è stato decapitato e appeso poi ad una colonna. Luigi Ferragliolo. A morte, per aver amato l'antica Palmira, per aver difeso i suoi tesori d'arte, per averla preservata per le generazioni future. E' il triste destino di Khaled Asaad, il capo archeologo siriano dell'antica città romana di Palmira, patrimonio dell'umanità. E' stato ucciso, secondo il direttore delle belle arti siriane, Mahmoud Abul Karim, dai terroristi fanatici dell'Isis. Asaad, 82 anni, era stato preso in ostaggio dopo che la cittadina siriana era stata conquistata dallo Stato Islamico. L'archeologo era considerato uno dei maggiori esperti al mondo di Palmira e prima dell'arrivo dei terroristi aveva salvato centinaia di opere d'arte trasportandole a Damasco. Asaad è stato ucciso e il suo corpo è stato appeso come monito ai siriani all'occidente ad una colonna nella piazza principale di Palmira. Intanto i cugini nigeriani dell'Isis, i terroristi di Boko Haram, hanno sterminato 15 persone nei giorni scorsi attaccando il piccolo villaggio di Kukuwagari, nel nord-est della Nigeria. Alla loro guida c'è ancora Bubakar Shekao, che ha smentito un cambio al vertice annunciato una settimana fa dalle autorità del Chad, come risultato della coalizione anti-Boko Haram composta da Nigeria, Camerun, Chad e Niger. Torniamo a parlare ora della bomba esplosa lunedì al santuario di Bangkok perché ci sarebbe una rete dietro l'attentato. Non si tratterebbe quindi del gesto di un lupo solitario. Lo ha dichiarato poco fa il capo della polizia italandese. L'attentato, lo ricordiamo, ha provocato la morte di 22 persone e il ferimento di altre 126. Intanto proprio questa mattina ha riaperto al pubblico il santuario che è stato teatro della strage. Le tensioni tra Israele e governo palestinese rischiano di mettere in pericolo la valle del Kremisan. In questa valle, infatti, in cui si trovano una scuola cattolica e due conventi salesiani, la costruzione di un muro che separe il Stato ebraico e palestinese è ben lungi dal fermarsi. Ma non è questa l'unica preoccupazione del patriarcato latino di Gerusalemme. Sentiamo Marco Burini. Giorni agitati per i cristiani di Terra Santa. Oggi le ruspe dell'esercito israeliano sono entrate in azione nella valle di Kremisan per costruire il muro di separazione e molti alberi di olivo, che insieme ai vigneti sono la ricchezza delle famiglie palestinesi e dei monaci che abitano questa terra, sono stati sradicati, come documenta il Centro Cattolico per i Diritti Umani Sentiv sulla sua pagina Facebook. Diventa così operativa la contestata sentenza della Corte Suprema israeliana del 7 luglio scorso. Il vescovo William Shomali, del patriarcato latino di Gerusalemme, è sconsolato. Siamo frustrati dalla ripresa dei lavori per costruire il muro nella valle di Kremisan perché, avendo fatto ricorso alla giustizia israeliana per salvare i terreni delle povere famiglie della zona e non abbiamo trovato giustizia. E questo ci era triste. La scuola è un altro elemento di forte preoccupazione. A due settimane dalla ripresa delle lezioni, il drastico taglio del budget voluto dallo Stato israeliano rischia di mettere in ginocchio gli istituti scolastici cristiani, che hanno lo status di scuola riconosciuta ma non pubblica, che accolgono circa 30.000 bambini, cristiani e musulmani. Noi chiediamo solo di essere trattati come scuole cristiane come sono trattate le scuole portodosse, che sono private come noi. Noi cerchiamo e chiediamo solo ugualianza e non privilegi. Era l'ultima notizia, io vi do appuntamento con l'informazione questa sera alle 18.30, puntuali in diretta come sempre. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.